Ben trovati a tutti, questo è un video anomalo. Un video anomalo che però voglio fare perché diversi di voi in quest'ultimo periodo mi hanno chiesto di mostrare qual è l'attrezzatura che ho per produrre i miei video, perché sono curiosi di vedere cosa uso. Diciamo che più che cosa uso, cosa ho usato sinora e cosa sto integrando. Vedete che qui ci sono due pacchi, quindi come si suol dire in queste circostanze vado ad effettuare un unboxing per far vedere assieme a voi cosa ho ulteriormente acquistato. Intanto vi posso mostrare quello che è già arrivato da Adicom, è il fornitore del quale comunque mi rifornisco per le mie attrezzature. Intanto vi posso mostrare questa prima cosa, questo aggeggino che è un... ovviamente ecco il mio canale non è tecnico e quindi uso dei termini perché tutti possiate comprendere, non è un canale di tecnologia. Questo diciamo che è un videoregistratore ad alta definizione, collegato tramite il cavo HDMI alla telecamera che sta là, riesco a registrare con un formato che ha una qualità decisamente superiore, ProRes si chiama. E questo è un Ninja Five, un eccellente super professionale videoregistratore. Intanto vi mostro qualcos'altro che è arrivato, vedete qui c'è ancora il suo cartellino, questi sono fari della Tolifo o Tolifo, non so come si pronuncia, che hanno anche le sue batterie già incorporate nell'acquisto, hanno la possibilità di variare l'illuminazione, la temperatura, il colore, hanno veramente tante specifiche che però non vi sto a dire proprio perché non è un video questo tecnico per attrezzature. Quindi vediamo i tre fari, vediamo la telecamera del Panasonic, eccola qua, questa è un po' parte dell'attrezzatura che ho. Adesso vediamo un attimo cosa c'è dentro a questi scatoloni, ok? Allora appoggiamo la GoPro, intanto questo lo mettiamo da parte, apriamo questo, vediamo un po' da che parte, forse qui dall'alto conviene? Allora iniziamo a distrarre un po' di cose, uno, due. Qui direi che non c'è altro, vediamo un po', carta, 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 ok? Qui non c'è altro, quindi lo scatolone lo possiamo... Allora questi sono, sicuramente li hanno rivestiti bene, non c'è che dire, quindi anche quei scatoloni via, eccolo qua, vedete? Questi sono due supporti per i fari che vi ho fatto vedere, i fari ho utilizzato dei supporti che già avevo per altri fari che non sono qui, e quindi questi però sono i suoi abbinati che non erano arrivati simultaneamente ai fari che ho già acquistato e che vi ho fatto vedere, e quindi sono di fatto arrivati oggi, questi sono i suoi supporti, i suoi cavalletti specifici, quindi li usiamo, li tiriamo fuori tutti e due, Eccoli qua. Ora passiamo a questo scatolone che direi che è decisamente più interessante, più performante, vediamo qui cosa c'è, intanto chiudiamo il coltello perché sennò mi si chiude la lama nelle dita e non è piacevole. Allora, intanto iniziamo con la prima carta da buttare via. E' importante anche l'assemblaggio, è fondamentale, quindi ve lo faccio vedere, vedete? Un ottimo assemblaggio proprio per la sicurezza dei contenuti. Qui ci sono cavi necessari per collegare le varie attrezzature. Adesso qui dobbiamo tirare fuori questo scatolone cercando di non fare quello che sto facendo ora, ovvero spargere il contenuto, il polistirolo per tutto l'ufficio, ma purtroppo l'ho già fatto e quindi non posso fare altro che fare così. Vediamo se dentro c'è qualche altro cavo, direi di no. Andiamo a ripulire un attimo perché sennò la sentite voi mia moglie. Ecco qua. E anche questo lo possiamo buttare. Ecco, praticamente sono usciti fuori tutti nuovamente. Va bene. Allora, vediamo un po'. Roland, già qui vi mostro qualcosina, vedete? Cosa c'è scritto? Roland V8HDI. Dovete sapere che nel mio lavoro, io sono anche, anzi, nel mio lavoro principale, sono amministratore di condominio e in un momento come questo, in cui le assemblee in presenza, io vivo in una zona turistica dove i miei condomini per venire qui devono mettersi in auto e affrontare due ore di auto, talvolta anche qualcosa di più. Quindi non è, non sono condomini abitati da residenti e quindi ecco che l'assemblea in presenza ora è meglio non farla. Ho fatto anche un video per l'argomento e questa attrezzatura è importante, sì, per il mio canale perché mi permetterà di avere un ulteriore importante miglioramento nell'ambito della produzione dei video, ma è fondamentale anche per il mio lavoro per le assemblee in videoconferenze. Intanto qui vediamo che la Roland non scherza, nel senso che vuole essere sicura che i suoi prodotti arrivino integri e quindi a modi matriosca gli imballaggi che utilizzano sono imballaggi certamente molto importanti, così come l'imballaggio anche di Adicom che ha effettuato per mandarmi il tutto. Oh, iniziamo ad esserci, intanto iniziamo a vedere qui cosa abbiamo, il contenuto, questo qui è istruzioni, le varie istruzioni, qui abbiamo il cavo di collegamento con la doppia spina, qui abbiamo l'alimentatore, questo possiamo togliere e iniziamo a vedere qui qualcosa di strano, di interessante. Lo tiro fuori e poi riprendo la GoPro per farvelo vedere meglio, che poi tutto sommato è anche piccolo come contenuto, non è grande. E anche questo è positivo, perché oggi grandezza non vuol dire miglior tecnologia, anzi tutt'altro, molto molto bella questa cosa, molto molto particolare. Oh, eccoci qua, questo è fantastico, fantastico solo, solo nel vederlo. Vedete questa gigino qua? Questo è un mixer video, un altatt veramente molto eccellente. Questo permette di collegare simultaneamente 8 sorgenti, tra telecamere e computer, quindi 8 sorgenti video e anche audio, potendo mixare le varie sorgenti l'una con l'altra, quindi è una regia, di fatto questa è una regia professionale, che mi permette di effettuare delle dirette, delle dirette non solo per le mie assemblee verso i miei condomini, ma delle dirette anche nel, e soprattutto anche nel canale, quindi dirette con voi, assieme a voi. Ho già in mente svariati video e svariate rubriche da inaugurare assieme a voi, dove chiederò la partecipazione di chi chiaramente mi dà l'adesione, per poter effettuare appunto delle dirette tramite piattaforme web, Google Meet, piuttosto che Zoom e tante altre piattaforme, semplicemente WhatsApp, in modo da poter interagire, interagire assieme a voi, a voi che chiaramente darete l'adesione per poter essere intervistati su tematiche, su argomenti che magari vi stanno a cuore. Allora questa è parte della mia attrezzatura, non è finito qui perché poi ho anche una Nikon D850 o un'altra GoPro o altre cose che potrò farvi vedere in un prossimo video, ma anche se comunque come vi ho detto il mio non è un canale per videomakers, non è un canale per fotografi, quindi già questo video è eccezionale, ovvero è eccezionale avervi mostrato l'attrezzatura che utilizzo, parte dell'attrezzatura che utilizzo nei miei video e quindi nella produzione di un video come questo che è fuori tema, fuori argomento. È un video che probabilmente interessa pochi utenti del mio canale, però permetterà a quei pochi curiosi di vedere come utilizzo e come realizzo i miei video. Mi state chiedendo cosa sia questo? Questo è un green screen, serve per poter creare delle scenografie. In che modo? Ve lo faccio vedere subito, guardate, 3, 2, 1, avete visto? È una finestra, al posto del verde è possibile mettere qualsiasi altra cosa. Torniamo alla normalità, ora ho anche il cellulare che interviene, è un video così live, è molto semplice così come altri che vorrò fare, in questo modo anche semplice però con buona tecnologia. Per il momento e per questo video anomalo è tutto, vi ringrazio di avermi seguito e ai prossimi video con maggior qualità, ok? Grazie a tutti, da Diego Santi, per il momento è tutto, al prossimo video, ciao!